Aurora Ramazzotti è tornata finalmente sui social, dove nelle ultime ore ha postato un selfie insieme al piccolo Cesare, mostrando per la prima volta il suo corpo dopo il parto. Aurora Ramazzotti è tornata sui social, dichiarando di essere sulla strada del recupero post parto e di godersi questa novità nella sua vita, assaporando ogni momento che passa, perché ogni attimo è una scoperta. Dopo la nascita del piccolo Cesare Augusto, aveva detto che sarebbe tornata quando avrebbe avuto un attimo le idee più chiare e dopo aver realizzato ciò che era successo. E quel momento è arrivato. Dopo circa 10 giorni di pausa dai social network, la figlia di Michelle Unziker ha postato il primo selfie insieme al figlio Letto, nelle sue storie di Instagram, mostrando per la prima volta il suo corpo dopo il parto, accompagnato da un messaggio in cui ha detto di essere sorpresa di come possa cambiare il corpo in base all'occorrenza. E lo ha fatto mostrandosi in tutta la sua bellezza, con in braccio il suo piccolo Cesare. L'influencer in questi mesi ha condiviso la gravidanza sui social con i suoi 2 milioni e mezzo di follower, raccontando la trasformazione del suo corpo durante la gravidanza e in tutta sincerità. Aurora, inoltre, è stata fonte di ispirazione e coraggio per tutte quelle mamme che in gravidanza hanno paura di fare movimento e attività fisica, facendo capire che con la giusta attenzione e i giusti accorgimenti è possibile allenarsi anche fino a poche settimane prima dal parto. Oggi, a distanza di 9 mesi, la 25enne si è resa conto di quanto il corpo di una donna possa essere magico e ha deciso di condividere qualche scatto con i suoi follower. Prima una foto che la ritrae 10 giorni dal parto e poi una che la mostra poche ore prima di partorire, mostrando il suo pancione per l'ultima volta. E con questa foto ha ammesso di non rendersi conto di come possa essere possibile portare in grembo un bambino. Aurora è da poco tornata a Milano, dopo la permanenza in una clinica svizzera in cui ha partorito ed è finalmente pronta ad affrontare la sua nuova vita, non più in due ma in tre. Aurora Ramazzotti si mostra stupita dopo il parto. Diventare mamma per la prima volta e senza alcun dubbio è un evento che ti stravolge la vita, è molto delicato. E giustamente Aurora sta cercando di capire bene come sta cambiando la sua vita, anche perché ogni giorno è una sorpresa, anche guardarsi allo specchio dopo nove mesi di gravidanza. La Ramazzotti sta affrontando un cambiamento importante, anche per il fisico, oltre che per la mente, che ha bisogno di essere metabolizzato. Accanto a lei però, oltre al nuovo arrivato, che le sta regalando grandi gioie, c'è il suo compagno Goffredo Cerza, che la riempie di coccole e piccole attenzioni. Ad esempio, ieri mattina, per la colazione di Pasqua, le ha portato una colomba di cui lei va matta. Ha fatto sapere Aurora tra le storie di Instagram, mostrandola. La giovane influencer è palesamente stanca, ma allo stesso tempo contenta, perché dichiara che sta andando tutto per il verso giusto. Aurora Ramazzotti ha così rotto il silenzio sul suo profilo di Instagram. Aurora Ramazzotti ha così rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, parlando per la prima volta ai suoi follower, a una decina di giorni dal parto, nella clinica svizzera di Sorengo. Infatti, in un altro video aveva detto che il piccolo Cesare stava facendo ciò che qualsiasi bambino piccolo fa, mangiare, dormire e fare bisogni, confessando di essere stanca ma felice. Emozioni che la portano ad alternare momenti di sasi a momenti di pianto, ma è tutto normale. E la cosa che la colpisce di più è vedere il suo compagno Goffredo insieme al suo figlio Letto. La 25enne, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, oltre ad aver condiviso questi ultimi video e foto di ieri, nel giorno di Pasqua, ha condiviso un altro scatto sul suo profilo Instagram. Stavolta appare sorridente e in macchina, mentre si reca forse a casa della mamma per festeggiare la Pasqua, accompagnata ad una descrizione in cui diceva di essere la sua, anzi la loro, prima uscita. Ovviamente dopo il parto. Aurora ha voluto far sapere ai suoi follower di stare bene, lei il bambino e il suo compagno, nonostante il cambiamento che stanno attraversando e nonostante i suoi sbalzi d'umore. Come si dice, l'amore vince su tutto. Ma vediamo chi è Goffredo Cerza, il fidanzato storico ad Aurora Ramazzotti e papà di suo figlio. Si è laureato in ingegneria elettrica a Londra, ha frequentato un master in international business e ora lavora come marketing manager e business analyst. A causa della pandemia ha deciso di tornare in Italia e cercare lavoro a Milano. In alcune foto del passato è ritratto con Asia Nucce Telli, con la quale condividerebbe un'amicizia. Come Aurora ama molto viaggiare e condivide gli scatti delle mete che visita. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti nel 2017, grazie a un'amica in comune. Per lei non è stato un colpo di fulmine, ma un amore che è cresciuto con il tempo, fino a diventare tanto forte da immaginare un futuro e una convivenza insieme. Goffredo è laureato in ingegneria, come dicevamo prima, e dopo aver studiato a Londra è tornato in Italia per via della pandemia, decidendo poi di cercare lavoro a Milano. È molto legato alla famiglia di Aurora, tanto che ha trascorso il lockdown nell'ormai ex casa Trussardi Hunziker. Mamma Michelle l'ha accolto a braccia aperte fin dall'inizio, definendo speciale il loro rapporto. La famiglia di Goffredo Cerza lavora nel settore sanitario, la mamma, Francesca Romana Malato, è la manager di un noto poliambulatorio specialistico di Roma, mentre il papà, Fabio Cerza, è uno specialista in ortopedia e traumatologia. La sorella maggiore, invece, Carolina, di professione è una biologa maloecolare e da qualche anno ha reso Cerza zio di una bambina. Il video è terminato, se vi va commentate per farci sapere cosa ne pensate di Aurora e della sua nuova famiglia. Non dimenticate però di mettere il vostro like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi i nuovi contenuti. Un saluto e ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!